Si è svolto lo scorso 12 luglio l'incontro del Comitato dei Cittadini del Parco e del Cora per dire no alla realizzazione del mega compostaggio che dovrebbe sorgere nel comune di Castelnuovo Cilento. Questo mega impianto per il trattamento di 16.000 tonnellate di organico più 4.000-6.000 tonnellate di strutturante è un attentato alla natura che si vuole proteggere con il Parco Nazionale nonché alla salute dei cittadini fanno sapere dal Comitato. I cittadini che devono crescere non te lo danno, tu non te lo puoi prendere, non te lo puoi prendere. Io invito tutti a prendere atto di questa cosa, si facciano carico di questa cosa, combattano per questa cosa o dobbiamo combattere noi. Dobbiamo fare come Giacomo Leopardi che c'era quando si parlava dell'Italia, di te, mandatemi un'arma in mano. Noi abbiamo costituito il Comitato dei Cittadini della Corra di Elea perché pensiamo che la questione del mega compostaggio non riguardi solo Castelnuovo ma che investa invece tutto quanto il Cilento. In maniera particolare è ovvio, Salento, Gioicilento, Cardile, Vallo della Lucania, Novi, Pellare, Moio, insomma tutti quei paesi che risentirebbero di sicuro dagli effluvi nefasti che deriverebbero da questa installazione che sicuramente non può essere sostenuta da un territorio che poi è anche dentro il Parco Nazionale del Cilento. L'impianto dovrebbe essere, dovrebbe avere una capienza di 30.000 tonnellate, benché sia stato progettato per 20-22.000 tonnellate. È comunque lo stesso impianto che si trova tra Eboli e Battipaia e che comunque noi sappiamo come passiamo da quelle parti, quali riflessioni ci fa fare. Immediatamente come avvertiamo una situazione di aria maleodorante e anche nociva che si fa immediatamente non solo sentire ma di cui noi poi risentiamo nel nostro organismo. Io ricordo per un periodo ho lavorato a Battipaia, ritornavo a casa sempre con una profonda nausea proprio per via di questo impianto che ovviamente comunque tutta l'area malsana la diffondeva su tutto quanto il contesto territoriale. Quindi noi avremmo la stessa situazione in una zona che però è parco nazionale. Il parco nazionale non è di competenza della regione. Io non riesco a capire, forse il Ministro ha dato una certa autonomia di gestione per quanto riguarda soprattutto la problematica della spazzatura. Lo stesso governatore della Campania ha considerato che il problema della spazzatura è un problema molto sentito ma è un problema anche gestito io credo molto male e poi noi sappiamo che la Camorra è diretto contatto con la gestione della spazzatura. Per cui ecco ci sono tante anche problematiche annesse indotte che senz'altro ci fanno immaginare che non possiamo noi prenderci la responsabilità di accollarci una problematica che non ci riguarda o eventualmente risolvere un problema che è più grande di noi o ancora in vista di denaro che pioverebbe sul comune di Castelnuovo e Cilento danneggiare la salute della popolazione e questo territorio che per grazia di Dio fino ad oggi abbiamo cercato di preservare per il quale abbiamo lottato e per il quale abbiamo costituito anche il parco nazionale.